La valigetta degli attrezzi della CAA aiuterà logopedisti, insegnanti, educatori, famiglie a muovere i primi passi nel mondo della comunicazione aumentativa e alternativa. Guardiamo dentro la valigetta. Essa si configura come un drive condiviso dentro cui troviamo templates di materiali pronti per essere utilizzati, corredati da video e foto esplicativi della loro applicazione pratica. Nella valigetta troviamo agende visive, calendari, tabelle di comunicazione adattabili, termometri delle emozioni ed altri materiali. La valigetta è uno strumento flessibile pensato per la condivisione, la condivisione di idee, di materiali e di esempi pratici. Grazie 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 Grazie